Il bar miliardo si chiama così perché nel lontano 1977 si fece un bellissimo 13 alto fotocalcio che pagò un miliardo di euro. Noi ci troviamo bene col Castorino perché il locale rimane più pulito ed è più facile la ricerca del codice. Guarda il mio passatempo, prendo qualche biglietto dal cestino e li controlla. Prima che usciva il Castorino ogni tanto beccava qualcosa, adesso non becco più niente. Bell'affare che abbiamo fatto.